Che cos'è allora The Global Hamlet? The Global Hamlet è la prima edizione di una traduzione popolare e un apparato critico collettivo che sia mai stata realizzata di un'opera letteraria. Ed è come funziona? Funziona come tutto il mondo che traduce, annota in molte lingue l'hamleto di Shakespeare. Per ora le lingue che abbiamo raccolto sono il francese, lo spagnolo, l'italiano, l'olandese e anche l'inglese per la versione dell'annotazione e dell'illustrazione. Tutti quindi potranno partecipare, è aperta a tutti la partecipazione in base alle proprie inclinazioni e ai propri interessi e per anche assecondare quello che è un aspetto educativo fondamentale di questo grande esperimento abbiamo raccolto intorno a noi una serie di istituzioni e di università in tutto il mondo e per ora abbiamo raccolto moltissime in Italia, abbiamo raccolto la Sapienza, abbiamo raccolto l'Università di Utrecht in Olanda, abbiamo raccolto a Parigi, in Spagna, in Inghilterra istituzioni come la National Operatic and Dramatic Association. Insomma tutta una serie di associazioni che ci aiutano a creare la struttura portante di questo progetto. Quali sono allora le due anime di questo progetto, le sue due matrici? Una è una matrice teatrale, un'altra è una matrice tecnologica, una è un'anima umanistica e l'altra è un'anima scientifica e la nostra ambizione è quella di riuscire ad amalgamarle in questo progetto, così come sono amalgamate nel nome del progetto, The Global Hamlet. The Global Hamlet fa riferimento naturalmente al Globe Theatre, il teatro fondato da William Shakespeare a Londra e dove fu rappresentato l'Hamleto, ma fa riferimento anche a un significato particolare della parola Hamlet, cioè villaggio. Quindi Global Hamlet vuol dire villaggio globale ed è come se ci fosse un letterale avveramento del motto shesperiano All the world is a stage, tutto il mondo è teatro, perché in sostanza il logo di Global Hamlet è proprio questo, rappresenta il Globe Theatre che si apre e ingloba in sé il mondo, che si fa mondo. E d'altra parte questa interpretazione era già stata pensata da Shakespeare quando aveva chiamato il suo teatro Globe, proprio per rappresentare che tutto il mondo è teatro e il mondo è teatrale. Ma questa dimensione collettiva dell'Hamleto di Shakespeare è non soltanto nella sua ricreazione attuale, ma già nell'atto della sua creazione. L'Hamleto è una delle grandi opere che possiamo considerare collettive dell'umanità, perché Shakespeare riceve un canovaccio che risale a una storia, che risale addirittura ai meeting europei e che passa attraverso moltissime rielaborazioni e narrazioni. Una delle quali, per esempio, è di Tito Livio, altre sono di autori inglesi e francesi. E quando Shakespeare la riceve e la riscrive, la rielabora, si serve, si avvale della collaborazione degli artisti e degli attori della sua compagnia teatrale, quanto della figura di Hamleto, dobbiamo al primo attore che ha interpretato Hamleto, l'istrionico geniale Richard Barbage, che lavorò molto con Shakespeare a costruire questo ruolo, e quanto dobbiamo alla tradizione editoriale dell'Hamleto, che, dato che non esiste una versione manoscritta di Shakespeare, dell'Hamleto, come non esiste in nessuna delle sue opere, e tutte le sue opere sono state trascritte, ricevute da copioni teatrali, che sono passati attraverso correzioni, attraverso revisioni e così via, e quanto dobbiamo addirittura al pubblico che ha applaudito magari una scena e si è annoiato in un'altra, così suggerendo ai suoi autori di rivedere certe parti del testo. Un altro dei motivi particolarmente importanti per cui abbiamo voluto scegliere l'Hamleto è che l'Hamleto è l'opera in cui nasce la razionalità occidentale. Non ci sarebbe internet se non ci fosse Hamleto, si potrebbe dire così in modo provocatorio. L'Hamleto è l'opera che segna la divisione tra l'età della tecnica, che viene dall'uomo, e l'età della tecnologia, che viene da se stessa, che è tecnica per la tecnica. E in Hamleto la ragione è per la ragione. La ragione pensa a se stessa, ragiona su se stessa oltre che sul mondo. Dimostra la sua capacità di autosufficienza e la sua capacità di autodistruzione. Abbiamo scelto l'Hamleto perché Harold Bloom ha detto una volta che tutti gli uomini antichi sono figli di Adamo e che tutti gli uomini moderni sono figli di Hamleto. E quindi ci piace pensare che traducendo, annotando, recitando e quindi interpretando l'Hamleto il mondo stia anche scrivendo la sua genealogia. E allora come? Come si scriverà questa opera? Come verrà scritta? Abbiamo visto chi la scriverà e la scriveranno tutti, la potrete scrivere tutti voi. e secondo le vostre inclinazioni, le vostre passioni e le vostre conoscenze non sarà assolutamente necessario che voi abbiate delle conoscenze approfondite o accademiche in ambito shakespeariano, in ambito di letteratura inglese e nemmeno che conosciate a perfezione l'inglese perché ci saranno una serie di strumenti nel sito che permetteranno di approfondire e di comprendere più precisamente come si svolgerà questa operazione. Allora, qui vi faccio vedere un po' del sito che non è ancora online però potrete vedere un po' come si svolge come strutturato e all'interno del sito voi potrete aggiungere delle traduzioni e delle annotazioni oppure delle illustrazioni. Le traduzioni si svolgeranno attraverso una mascherina che voi potrete vedere comparirà qui a un certo punto e dentro la mascherina sarà come scrivere dentro un blog quando voi mettete il vostro nome e poi mettete il vostro commento. Questo commento sarà per esempio la traduzione che voi vorrete proporre e verrà proposta a un editor che la controllerà e che quindi vaglierà la bontà o la non bontà della vostra proposizione. L'editor sarà anche un traduttore famoso ma non avrà la facoltà di tradurre lui stesso o di proporre una annotazione lui stesso. Quello che potrà fare è mettere insieme parti delle traduzioni che voi presenterete perché anche gli errori saranno importantissimi saranno portatori di valore aggiunto perché delle volte è dagli errori che nascono le cose più interessanti e anche dall'ingenuità o dalle invenzioni che vengono proposte. Quindi si potrà fare una proposta attraverso la traduzione oppure si potrà proporre un'annotazione, un commento. Allora questo commento potrà essere di vario tipo sempre secondo le vostre inclinazioni, le vostre conoscenze. Se avete una passione particolare per la psicologia potreste analizzare tutti i meandri più profondi della strana e scura personalità di Amleto, il suo rapporto con il padre, il rapporto con la madre, conflittuale. Oppure se avete delle preferenze in campo giuridico potreste analizzare come è avvenuto il seppellimento di Ophelia che era una suicida e questi commenti li potrete fare sia in forma scritta, in modo tradizionale che in modo innovativo, cioè mettere dei video, mettere delle immagini, mettere delle musiche. Tutte queste cose, per esempio la musica e il commento alla musica, ci sarà una cosa che ci piace chiamare la colonna sonora un po' di questa operazione di questo sito e che sarà la versione sia in inglese elisabettiano che in inglese contemporaneo di tutta l'Amleto letto dagli attori. E quindi potrete anche commentare questa colonna sonora con vostri commenti oppure potrete sottoporre delle illustrazioni fatte da voi, non solo riferendovi a quelle dell'iconografia classica amletica, ma a quelle che voi vorrete proporre. E queste verranno messe al vaglio di altri editor e potrebbero essere pubblicate poi sul sito. e potrebbero essere pubblicate in una sezione che si chiama la Pinacoteca perché ci saranno varie sezioni che costituiranno questo sito e nella Pinacoteca ci sarà una carrellata su tutta quella che è stata la storia, la storiografia grafica dell'Amleto e quindi vedere come nei secoli è cambiata la rappresentazione e la raffigurazione di questa storia fino ad arrivare ad oggi quando ci saranno appunto le vostre proposte. Un'altra sezione importante sarà la genealogia e nella genealogia ci sarà una carrellata di nuovo di quelle che sono stati gli Amleti prima di Amleto da Tito Livio a Saxos Grammaticus fino ad arrivare a Shakespeare che l'ha consegnata poi alla modernità ai capitoli che sono nel Villemeister o al settimo capitolo dell'Ulysses di Joyce fino ad arrivare ai giorni nostri quando nel cinema lo vediamo da moltissime parti è presente. Dietro di me ci saranno delle immagini riassunto in un minuto un po' una carrellata di come è presente nel cinema nella televisione e anche nei cartoni animati Shakespeare perché si arriva fino a Re Leone nel Re Leone che è un amleto nella giungla in sostanza ci sono gli sceneggiatori si sono anche divertiti a mettere l'immagine di Scar lo zio che è usurpatore del trono che dialoga con un teschio che è una classica immagerie amletica e quindi tutte queste sezioni messe insieme struttureranno la forma e la struttura portante di quello che è questa operazione. Che cosa saranno allora gli esiti di questa operazione? Quali saranno i risultati di questo sforzo collettivo di questa avventura letteraria internazionale? Il primo il più canonico sarà un'installazione cartacea un libro un libro che sarà pubblicato da alcuni dei principali editori internazionali in Italia avremo in Italia avremo Feltrinelli in Francia avremo Gallimard con il marchio La Table Ronde in Spagna Anagrama che lo diffonderà anche in Sud America in Olanda Ateneum e presto anche un editore inglese questo libro sarà il tentativo di realizzare una di realizzare dal basso un'altissima edizione di Amleto quindi in particolare una traduzione collettiva che sarà la prima mai realizzata e un apparato critico collettivo che si avvarrà dell'eterogeneità dei saperi della molteplicità dei punti di vista da cui sarà guardato e riscoperto l'Amleto ma una seconda cosa particolarmente importante sarà anche un quello che vogliamo chiamare un programma un tentativo di trasformare il rapporto tra gli studenti e i loro testi di studio gli studenti in qualche modo contribuiranno a scrivere il loro testo di studio il testo su cui loro studieranno o su cui studieranno quegli studenti che verranno dopo di loro perché? perché verranno invitati a utilizzare in modo creativo i testi della critica letteraria quindi immaginate gli studenti che li ricevono li leggono e li devono utilizzare non più semplicemente mandare a memoria ma utilizzare per tradurre per annotare l'Amleto immaginate anche la possibilità di questi studenti che per la prima volta saranno davanti al video saranno davanti a internet saranno anche sui social network si potrà annotare i social network e potranno rispondere che non stanno perdendo tempo stanno studiando anche se stanno davanti a facebook quindi l'idea è quella di trasformare in modo dinamico in modo partecipato e diffuso il rapporto che gli studenti hanno con la tradizione scritta sempre naturalmente sotto la supervisione prima dei loro professori e poi in seconda battuta degli editor di Global Hamlet che controlleranno il tipo di cose che saranno proposte ma alla fine una delle cose più importanti sarà naturalmente il sito stesso il sito stesso che ci piace chiamare un libro vivente un libro vivente è sostanzialmente un libro che viene continuamente aggiornato che si trasforma è un libro che incapace di contenere il mondo si è aperto al mondo e si trasforma continuamente in mondo internet ha reso possibile questa idea di opera aperta di opera che si trasforma continuamente e questo sarà una delle possibilità importanti del futuro un nuovo tipo di letteratura di libri che saranno continuamente aggiornati e riscritti dai loro lettori e che in questo modo abbatteranno la distinzione tra il lettore e l'autore d'altra parte anche questo è un modo questa idea dei libri viventi Hamlet è il primo di una serie di quelli che vogliamo chiamare collective classics è un modo di reinterpretare l'idea di cultura la parola cultura sorge nel rinascimento intorno al cinquecento ed è una potentissima metafora cultura viene dall'idea di coltivazione cultura della mente coltivare una mente con pensieri idee testi con tutto quello che la può rendere più fertile appunto e questo è un tentativo attraverso i collective classics di una coltivazione nella mente collettiva delle opere seminali dell'umanità in qualche modo questo un libro vivente è già Wikipedia naturalmente ma Wikipedia è diciamo è il libro che ha mostrato alcune delle potenzialità importanti della cultura digitale se c'è un libro per ogni età della storia culturale dell'uomo beh allora la Bibbia l'Iliade l'Odissea sono i libri della cultura orale della tradizione orale sono i libri della voce l'anciclopedia francese che nasce nel tempo della rivoluzione francese è il libro del tempo della scrittura e Wikipedia è sicuramente il libro dell'età digitale e in qualche modo riesce a porre insieme e sintetizzare le due concezioni di libro che l'hanno preceduta perché quella della voce e quella della scrittura perché si può dire che la scrittura su internet sia voce scritta voce che rimane scrittura che si trasforma ecco allora l'idea di Global Hamlet è quella di applicare per la prima volta l'intelligenza collettiva alla letteratura e alle arti di creare se Wikipedia ha creato un archivio collettivo creare in questo caso un autore collettivo e anche se vogliamo così dire un attore collettivo Hamlet Hamlet durante tutta l'opera vive continuamente sul palcoscenico e porta sul palcoscenico gli altri personaggi dell'opera quello che dice Hamlet è che tutti sono attori e che tutti sono in qualche modo autori dell'opera che stanno recitando tutti sono attori tutti hanno le loro entrate e le loro uscite e questa è stata la nostra vi ringrazio della vostra attenzione